Ma che c'era una festa in questa casa? Cioè ma, ma questa è una kill? Che lo so? Ma sta tutta la lobby in questa casa? C'era 5 kill, c'è Ragazzi, prima che parte il video vi voglio annunciare che su Mr.HD ci sono delle offerte assurde Infatti, il sito sta avendo un boom assurdo Tante volte sono io in persona a consegnare, come in questi clip Il sito lo trovate benissimamente su internet Cercando Mr.HD.it Le offerte sono assurde, quindi cosa aspettate? Ragazzi, la pandemia è finita C'è stato un periodo di caressia, di fame Diciamo che io adesso mi devo sfogare così Con le Kinder Paradiso Sì, queste belle Kinder Paradiso La sfida è semplice Ogni kill mi mangerò una Kinder Paradiso Ne ho comprate, boh, una trentina Quindi, con chi possiamo fare questo video? Con NLE Ante Buonasera Buonasera, buonasera Allora, Ante, l'ultima volta che abbiamo fatto un video sul cibo Mi hai fatto, quant'era, 20 bombe era? Più o meno Eh, sì, sì, più o meno, sì Allora, mo ti faccio fare solo Viscood Mi raccomando Non dico, non dico 20, 30 bombe Eh sì, ma oggi cosa hai, scusa? Oh, Kinder Paradiso Sono leggere Buono Sono buone, però Ne mangio tante, giustamente Faccio una fine, una brutta fine Facendo la breve 6 kill 7 kill, non di più Va bene? Ci provo A posto, a posto Vai 2 Carico, basta Sono pronto Sono pronto Speriamo di non morire Di Obesità Speriamo Allora Andiamo al parco? Sì, andiamo al parco Ma tu potevi anche andare all'agenzia Tanto, devi morire Ah, io vado all'agenzia, tu dici? Eh, sì E mori prima, no? Ma quanta gente sta all'agenzia? Assurdo Uccidetemi Uccidetemi Perché sono scarsi qua Dai, nemmeno Me ne uccidono Nessuno mi conferma Mi hanno ucciso Ma nessuno mi conferma Eh, nessuno mi conferma È un'assurdità Allora, secondo me Vado che oggi sono bello carico Eh? Faccio Un bel po' di kill, sai? Un bel po' addirittura Sì, ma Quindi facciamo 2 kill Una kill al paradiso Va bene 2 kill Una kill al paradiso Ma dipende Quanti kill vuoi fa, scusa? Eh, prova 20 20? Ma già siamo in 50 Quindi Dovessi un po' Migliorare le cose Diciamo Ah, fra Sto qua dentro Non c'è nessuno qua Ma come hai fatto a vedere che stava la? Scusami Quindi Ora ne uccidi un altro E me ne mangio una Sì, fra Io ci sto, eh Non mi tiro indietro Però Il mio pancino è piccolo Non ce lo dimentichiamo Ah, fra Siamo a 33 Che faccio? Quinto 33? Che faccio? Fra, quinto Ok, dai Abbandona Veloce, veloce Aspetta, aspetta Anche perché non ti dà vita Aspetta, fra Allora ragazzi La partita di prima È fallita perché erano 30 cristiani Non c'era senso E niente Avevano paura tutti gli ante Questo è sceso col pompa Uccidimi, bello Bello, uccidimi Oh Nessuno mi spara Ti aiuto, ti aiuto, fra Nessuno mi spara Bello Bello Ma che mira c'ha questo qua Ma questo è ciecato È ciecato Sono ciecati Mi sono messo in un fuoco incrociato Non morivo Fra Non ci credo Ti stavo guardando, fra Ci muori o no? Oh, fra Ci muoio Oh, mi uccidono Vabbè, io sto gattonando qui Nessuno mi vuole Nessuno mi pensa Prima o poi morirai Sì, sì, sicuramente Non mi guarda che Intanto te ne devi già mangiare ubra Eh, fanno altre due, dai Me ne mangio due in una botta Mi raccomando, non prendere Il muro Non prendere il muro, fratelli Questo fa HS Questo è forte Bravo Mo, mo mi piaci Mo mi piaci Però mi raccomando Non troppe kill Cerca di talmarti Leggermente Leggermente E devi fare Ma t'ha preso? No, ma Eh, troppo forte Lui non l'ha preso Ma È la mia visuale T'ha preso però Beh, dalle la domenica Lo so What? Me ne mangio due Mangio? Eh, guarda Mangio Una Eccola Buonissime Ma però Siamo vati a venti Ma siamo venti Da due minuti Da due minuti che sto quasi un venti Dai, a parte che 5 kill ce l'hai Se ne fai un'altra Me ne devo mangiare un'altra Allora Vediamo dove potresti andare Rapide e rischiose Non ci sta nessuno L'agenzia Ma l'agenzia ti Arano Fratelli, c'ho fame Porca Ma la C4 fa paura Morto No Stop No, non morire Aspetta 7 kill Quando mi domani Un'altra Un'altra me ne mangio Fammi l'ottava kill Che me ne mangio Due almeno Aspetta Bombe La bomba a mano Ma però sono buonissime Oh, fra Morto? Ah, ancora Va Non ci sono problemi Odio Beh, dei problemi Mo ci stanno diciamo Sì, sì, adesso i problemi ci stanno Questo è il rumore Eh La C4 che mi ha messo qua Sto sciocco qua Vado, ho scitonnato Ma è morto Ma non muore Ma è blu Oh Fra Fratelli? What the fuck? Fratelli? Ma Non ne ho Nessuno Quanta vita avevano Vergognoso Vergognoso Come No, sei vergognoso No, ti do l'ultima possibilità Boh, basta Ma l'ultima possibilità Giusto perché c'ho fame Perché se no Ma tu mi hai detto Che facevi l'uccello Spaccavo con lo spasso Ma no Eh Ma devi giocare tu Mica io Speriamo Ragazzi Se non fa kill No Che bella sei pazzo Dove vuoi andare? Io vado lì Tu Tu è a parco Tu è a parco Va beh a parco Va a parco Comunque Ante è diventato molto scarso Cioè io ve lo dico È diventato molto scarso Scarsissimo No, non me di così No, te dico così Te dico così Perché quello l'avrei spaccato io Ma fra Non muore Nessuno di due non muore Beh, era immortale Ci sta che era immortale Da Fra, tu è a parco Stanno La gente Non ci sta nessuno Due cristiani Fra, tu è a parco Stanno Uccidetemi Mi devo far uccidere al bot Ok, mi hanno ucciso Uccidimi, bello Bello, uccidimi Bello, uccidi pure me Ma che c***o fa questo? Mi prende la scheda Mi prende Ma non mi uccide Ok Ti sto aspettando Un altro Porca Ok Un'orgia Ma che c'era una festa in questa casa? Cioè, ma Ma questa è una kill Ah, ok Sette cristiani Quanti ce ne stavano? Che ne so Ma sta tutta la lobby in questa casa C'era cinque kill, c'ho E devo mangiare altre due Me le devo mangiare Sì Non fa un'altra kill Me ne mangio tre Ragazzi, comunque Devo dirvi la verità Meglio che non abbiamo fatto ogni kill Una Una kill del paradiso Perché se no Cioè Me le devo mangiare quaranta Noi, devo andare al supermercato Dove farmi da tutto Dovevi rimanere là Eh sì Non uscivo proprio Questi modi laserano tutti Di laserano Mi sembra pinnacoli pendenti Ma che Cioè, pure da dietro ce l'hai Io non farti laserà Tu e l'audio siete Due cose diverse Cosa? Due? Quattro? Sei? Otto? Cioè, se Se sto bravo in matematica Me le devo mangiare quattro Me le devo mangiare quattro Buonissime Ma secondo me L'elicottero è che porta sfiga E non lo prendere Mi do mangiare quattro Sperate che stanno pure di limone Sanno Non mi caso scadute Ecco, eccolo Aspetta, l'altro, l'altro Ma guarda quanto è scarso Quello mi sembra È nelle ante Scarsissimo Dove vai? Non vedendo non pensante Ecco, arriva l'amico Vado, vado, vado Sei morto? Ho incattato l'amico Quasi è forte Quasi sarà suo fratello Dai, gli ho ucciso il fratello È ovvio Ci muori? Qua sei sicuro, eh Undici kill Ma tu me le fai finire tutte Io me le voglio mangiare tutte Oddio, mi ha dato le cure Mi ha dato questo Mi viene da vomitare No, è fatto, sai qual è? Sono leggere, sì, è vero Però comunque mi sono mangiate quante? Cinque, sei, sette Quante sono mangiate? Oddio Questo è il rampino Quello che serve a me Ottimo Sì, ma per piacere Non esagerare Scigliere con l'aereo Scigliere con l'aereo Vuoi apriare mo? No, è bastorto l'aereo Bastorto Qua siete uccide? Mo ci muore Per piacere muorici Mi serve un po' di acqua Mi serve un po' di acqua Che rinculo che però c'ha La Thompson, no? Ma c'è tutto il team qua Questo è un depensante Non pensante Non vedente Oh, shit Addirittura Kamikaze Oh, bro Morto? Sei morto? Scappa Scappa Medei, Medei Scappa Scappa Guardate il mare Scappa Scappa Come devo mangiare un'altra Sono dieci kill Quindi Prendili uno alla volta Capito come? Atterrato? Muori Muori, fra Muori, fra Muori Ma cos'è? Cristo è Ah Ah Dio Qui domani all'ultima Stai vomitando No, non sto vomitando Quasi Però c'è qualcosa che non quadra Mi sento del limone nella testa Sì, mi vedo dei limoni e del latte Spero non siano scadute Ho sbroccato Ho sbroccato Ho sbroccato Ragazzi, il video finisce qui Nelle ante Purtroppo è finito Ormai è diventato scarso Quindi Disiscrivetevi Dal suo canale Assolutamente Disiscrivetevi Vi voglio bene Saluta No Saluta No, è solo Disiscrivetevi Vabbè, iscrivetevi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti